Il tasso di disoccupazione registrato in Grecia segna il livello minore dal lontano 2011, dimostrazione che la zoppicante economia greca si sta pian piano riprendendo, mostrando una modesta crescita. Rispetto al terribile mese di settembre 2013, quando il tasso di disoccupazione toccò il livello record del 27,8%, l'ultimo miglioramento è significativo. Malgrado ciò, resta ancora più del doppio rispetto alla media della zona euro e dell'Unione Europea, dove rispettivamente siamo al 7,5% e al 6,3%. Secondo i dati stagionali aggiustati in maggio, il tasso di disoccupazione è calato al 17,2%, lo scorso anno, nello stesso mese, era al 19,4%. La disoccupazione giovanile in Grecia è scesa al livello più basso dall'inizio della crisi, tuttavia oltre un terzo dei giovani allenici rimane senza lavoro. È il 33,3% dei giovani ad essere disoccupato, una cifra elevata, ma ben 5 punti percentuali in meno rispetto al 2018. Oltre 400.000 giovani, inoltre, hanno deciso di lasciare la Grecia per lavorare all'estero.